Ciao a tutti amici di GamesCollection.it, qui è il vostro Ahmed DJ e finalmente sono tornato a fare video dopo mesi e mesi di latitanza ma come potete vedere ho cambiato casa e il trasloco è stato piuttosto impegnativo e quindi eccomi qua, non mi ricordo neanche di la realtà cosa vi ho mostrato nell'ultimo video degli acquisti quindi ho preso un po' di cose che sono abbastanza sicuro non vi abbia fatto vedere l'ultima volta e che comunque ho comprato negli ultimi mesi partiamo subito con cose piuttosto grosse iniziando appunto da Wii U con il bundle con Mario Kart 8 stavo aspettando appunto di comprare il Wii U quando ci sarebbe stato qualcosa di utile da giocare e Mario Kart 8 mi è sembrata una buona occasione soprattutto perché il bundle l'ho trovato, non ricordo il prezzo di preciso però costava meno di quanto costava prima c'è il Wii U, quello fico da 32 giga, premium pack con la copia fisica di Mario Kart 8 inclusa anche la confezione non è per niente male e quindi finalmente sono felice possessore di Wii U anche io quindi dato che è Wii U partiamo subito con i giochi Wii U che ho preso da allora quindi appunto la copia fisica di Mario Kart 8 che era inclusa all'interno del bundle dopo di che la verità non è che ho preso tanto per Wii U però One Piece Unlimited World Red, molto molto fico classico, non lo chiamerei tipo, non è come One Piece Musou, One Piece, non ricordo come si chiama in italiano vabbè quello classico Koei che c'è su PlayStation 3 è più diciamo Adventure, è un po' più RPGoso non male, cartoonish ovviamente e parentesi 3DS dato che ha il cross save con la copia per 3DS quindi l'ho preso anche per 3DS anzi in realtà l'avevo preso prima per 3DS poi siccome non ho l'XL ma ho quello normale lo schermo è un po' piccino per giocare a questo gioco quindi ho detto ah boh lo prendo anche per Wii U e così ho fatto dopodiché per Wii U praticamente è un cazzo ho preso Baionetta che è uscito appunto due giorni fa non ho preso la First Print Edition perché non mi aveva convinto sinceramente secondo me non vale i soldi che costa almeno per il momento quindi sono andato per la Special Edition che ha semplicemente entrambe le copie quindi Baionetta 2 e Baionetta 1 molto molto fico ovviamente non ho nulla da dirvi a riguardo se non lo state giocando giocatelo perché è veramente veramente una figata ah sì e poi dato che c'ero la guida ufficiale strategica di Baionetta 2 appunto non che serva una guida per giocare un gioco come Baionetta però boh era carina ci stava era lì c'era scritto Baionetta sopra l'ho presa poi rimanendo in tema Nintendo per Wii ho un titolo per Wii sì ho comprato Disaster Day of Crisis che a parer mio è una perla per Wii che è andata abbastanza in sordina quando è uscita nel 2008 sembra sì è sviluppato da Monolith Software quindi è un gioco giapponese esclusiva Wii ovviamente esclusiva giapponese e europea non è mai uscita in America a causa delle vendite del cazzo però merita molto in pratica sembra di stare in un film di Michael Bay succedono sfighe a ogni angolo terremoti, alluvioni, vulcani di tutto e di più molto molto fico un po' action ha i dialoghi un po' è un po' cheesy però vale la pena soprattutto lo si trova una cazzata online l'ho pagato tipo 2 pound nuovo qualcosa di veramente veramente esiguo poi 3DS 3DS andando in ordine ho preso Hometown Story che è tipo spin off della saga di Harvest Moon sembrava carino devi farti il tuo negozietto in realtà stavo solo cercando di di trovare un sostituto degno per Animal Crossing e non l'ho trovato in questo gioco che mi ha fatto abbastanza cagare e l'ho abbandonato dopo due giorni peccato perché poteva essere simpatico dopodiché Tomodachi Life anche questo spintissimo da Nintendo che gioco è? è un Tamagotchi Konimi è carino non è male è un simulatore di vita però non è The Sims che tra franzi mi fa cagare non so neanche come spiegarlo è stranissimo come gioco e sinceramente dopo un po' all'inizio non era male poi dopo un po' mi ha stancato e l'ho abbandonato definitivamente però c'è un sacco di gente che ci gioca è ancora tipo top ten e classifiche boh non lo so l'ho lasciato un po' così non mi ha convinto del tutto dopodiché ultimo gioco su 3DS che è l'ultimo è quello a cui sto ancora giocando appunto Fantasy Life che finalmente dopo anni mesi di attesa è uscito anche in Europa un mese prima che in America oltretutto è fighissimo è sviluppato da Level 5 quindi sono gli stessi tizi di Leighton RPG quindi RPG misto a Animal Crossing misto a Harvest Moon puoi fare quello che vuoi c'hai i mestieri puoi fare il fabbro il falegname oppure puoi andare a combattere i mostri veramente veramente figo lunghissimo ci ho giocato già tipo 60 ore sono nulla ancora è veramente infinito come gioco è molto molto figo se avete un 3DS ve lo consiglio caldamente e abbiamo finito le cose Nintendo passerei a Sony partendo con PlayStation 2 PlayStation 2 ho rimediato una press copy quindi una copia promozionale del primissimo Yakuza appunto su PlayStation 2 questo non l'ho comprato ma mi è stato regalato da un caro amico anzi lo ringrazio grazie Shiba anche se non parla italiano quindi probabilmente non capirà il ringraziamento ma non è un problema e niente è semplicemente la press copy con quella che veniva data alla stampa per la recensione all'epoca non male rimanendo in tema Yakuza PlayStation 2 cos'è? vi faccio vedere il retro mo ve lo apro sono chopstick ovvero bacchette per mangiare sushi o quel cazzo che volete giapponese appunto marchiate Yakuza e sul retro se non sbaglio si marchiate appunto Sega merchandise ufficiale appunto del primissimo Yakuza su PlayStation 2 una vera chicca da collezione e per questo ringrazio caro amico Alex che invece parla italiano e può capire i miei ringraziamenti molto molto figo ovviamente non le userò mai per mangiare però ci stavano e poi passando invece su PlayStation 3 ma rimanendo in tema Yakuza dato che probabilmente più volte vi ho fatto vedere che avevo tutti gli Yakuza e vi ho già fatto vedere quelle per PlayStation 2 che stavo giocando ho giocato ho finito ho figata però quelli su PlayStation 3 li avevo avevo le copie promozionali che avevo rimediato al lavoro qualche tempo fa però le copie promozionali si sono fiche le copie per la stampa però volevo anche le custodie perché sugli scaffali non stanno proprio bene le copie promozionali sono brutte piccoline quindi ho ricomprato in pratica gli Yakuza usciti usciti in Europa quindi Yakuza 3 Yakuza 4 e Yakuza Dead Souls li ho ricomprati nelle loro copie Retail giusto per averli sono molto fichi oltretutto il 3 ha anche la colonna il disco della della colonna sonora che è una gradevole aggiunta cosa che la copia promozionale ovviamente non aveva e sì ovviamente nel mentre li ho giocati tutti quindi diciamo che negli ultimi sei mesi ho fatto Yakuza Yakuza 2 Yakuza 3 Yakuza 4 Yakuza Dead Souls e ho iniziato Yakuza 5 che appunto ho comprato recentemente da un nuovo sito e avevo tentato di prenderlo da PlayAsia poi ho trovato questo nuovo sito non so se è nuovo però per me lo è si chiama Ninnin Games è un sito sono dei francesi che importano giochi dal Giappone da Osaka e hanno dei prezzi molto buoni devo dire e a differenza di PlayAsia la spedizione è tipo immediata ho comprato tre giochi e mi sono arrivati dopo due giorni hanno fatto Osaka Londra in tre giorni fighissimo quindi sì Yakuza 5 ovvero Ryugago Gotoku 5 è fighissimo lo sto giocando grazie a una guida online ovviamente perché essendo tutto in giapponese è incomprensibile per me è fighissimo è probabilmente il capitolo più bello della saga finora li ho giocati tutti quindi molto molto fico sempre in Yakuza ho preso anche Ryugago Gotoku Isshin ovvero l'ultimissimo capitolo spin off di Yakuza uscito in Giappone che non ho ancora ovviamente non ho ancora iniziato né giocato né non ho neanche messo dentro la Playstation 3 però sembra molto molto figo ambientato appunto nel medioevo giapponese più che altro sto aspettando che qualcuno faccia una straccia di guida per poter giocare altrimenti collezionerà un po' di polvere sullo scaffale ma non è un problema e poi cos'altro e voilà questo gioco che potrebbe sembrare sconosciuto a molti si chiama qualcosa Otokojuku 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 uno dei due è basato su un manga e anime giapponese degli anni 80 come potete vedere dai disegni molto alla Kenshiro è stato pubblicato anche in Italia il fumetto non il gioco ovviamente il gioco è esclusiva giapponese il fumetto è stato pubblicato in Italia e se non sbaglio si chiama classe di ferro era pubblicato dalla Star Comics dei volumoni giganti molto molto fico è a metà fra un picchiaduro e ci sono minigiochi stupidi è veramente figo però ovviamente se non avete presente l'opera originale un po' senza contesto non rende molto poi Mobile Suit Gundam Target Insight probabilmente questa è la versione come vedete è scritta in giapponese però è tipo la versione asiatica infatti il gioco dentro ha anche l'inglese sì Asia version è una merda è uno dei giochi al lancio di Playstation 3 con i Gundam ovviamente ma fa schifo al cazzo l'ho trovato a un pound in un negozio di giochi usati sotto casa veramente una merda però era lì l'ho comprato l'ho provato un minuto e poi l'ho lanciato nel fuoco e infine Sensei a Sanctuary Battle quindi Cavaliere dello Zodiaco che non ho veramente ancora iniziato a giocare sì ho giocato tipo 10 minuti sembra figo non è male non è l'ultimo uscito perché l'ultimo uscito è quello che c'ha anche l'edizione figa col gold cloth non so i cazzi però non ho molto da dirvi a dire la verità va in giro e picchi tutto e tutti e anche slash diciamo con Sensei ah mi ero dimenticato ultima cosa nel Playstation 3 si Metal Gear Rising Revengeance Limited Edition esclusiva per Zabby UK e si in pratica era tipo costosissima e poi tutto ad un tratto sul sito di Zabby hanno deciso di metterlo a 20 pound 15 pound e tipo le copie sono volate via in un millisecondo sono riuscito a prendermene una copia per per Playstation 3 avevo già il gioco su Xbox 360 però l'edizione normale avevo solo preso per per poterla giocare e era lì e ho detto vabbè cosa faccio la lascio lì quindi no l'ho presa non so se penso che abbiamo un unboxing da qualche parte sul nostro canale comunque ovviamente c'è il gioco con i DLC e poi c'è l'action figure fighissima di Raiden molto molto fica è enorme e per 15 pound veramente ne valeva la pena passando invece a Microsoft ho preso questo ero veramente curioso di provare questo volante wireless per 360 e fa cagare a cazzo quindi l'ho usato tipo una volta con Forza Motorsport tipo è ingiocabile mi ha detto vabbè fanculo l'ho pagato un pound quindi va bene e poi invece per Microsoft abbiamo tutte e tre le console quindi iniziamo con la prima Xbox dove ho preso Otogi e Otogi 2 e dopo aver giocato a Dark Souls ho detto oh mio Dio ma io amo From Software quindi ho deciso di provare questi due classici appunto From Software pubblicati da Sega oltretutto sulla prima Xbox e quindi un po' tipo ninja demoni samurai non so di preciso di cosa parli non li ho ancora provati però sembrano fighi e mi è stato detto che sono fighi lo vedremo e lo oppurerò in futuro breve per 360 invece ho preso Onechambara bikini samurai squad perché ho preso questo gioco perché è trashissimo fa schifo al cazzo però è un sacco bello lo so sembra un controsenso però è così tipo ammazzi zombie con katane vestito svestito in bikini avevo già la versione una delle versioni su Wii che faceva ancora più cagare di questa però non potevo non averlo dovevo comprarlo prima o poi altro gioco per 360 Yaiba Ninja Gaiden Z la versione per 360 vi ricordo che nonostante dica sul retro che c'è la colonna sonora in digital code in realtà c'è la colonna sonora su disco e grazie al cazzo perché è l'unica cosa bella di questo gioco che è una merda però ma buona ci sta e infine mi è stata regalata un Xbox One per il mio compleanno che ancora non vedete perché non c'è essendo la versione bianca il bundle con Sunset Overdrive che esce il 31 ottobre non so quando questo video andrà online ma non è ancora il 31 ottobre quindi non ho l'Xbox One ancora però c'ho i giochi ne ho un sacco che ho tipo scomprecchiato scambiato rimediato qua e là e non sono sono i classici giochi per Xbox One quindi abbiamo Dead Rising 3 ovviamente non posso dirvi un cazzo riguardo di questi giochi perché non li ho ancora provati però ho cercato di rimediare quelli che secondo me erano i migliori per poter partire con la con l'Xbox One nuova appena arriva oltre appunto a Sunset Overdrive quindi Dead Rising 3 poi Wolfenstein New Order che ero quasi tentato di prenderlo su 360 poi ho detto no dai vabbè aspetto di prenderlo su next gen Tiff reboot remake come cazzo volete chiamarlo del del gioco originale che oltretutto su Xbox da qualche parte era un gran gioco non so come sia questo appunto remake reboot staremo a vedere e poi Forza Motorsport 5 Day 1 Edition che è il motivo principale per cui volevo un Xbox One essendo un fanatico della serie della saga di Forza non vedo l'ora di giocarci e come ultima cosa Alien Isolation stiamo a vedere com'è non mi sbilancio spero sia fico e questo direi che è tutto non mi sembra di avere nient'altro da mostrarvi spero che vi abbiate gradito il video e ragazzi ci vediamo al prossimo ciao a tutti al vostro AMA DJ ciao